Radio Nostalgia, 3 per te. A voi, cosa state aspettando? Note vocali o video messaggi al nostro numero Whatsapp o Telegram? Andiamo da Vale. Ciao Andrea, sono Valentina D'Amassa e per te oggi ho tre richieste importanti. Vorrei ascoltare la prima canzone di Nada, Ma che freddo fa. La seconda invece mi fa impazzire ed è Voice di Sabrina Salerno, mentre la terza per favore vorrei ascoltare Three Dreams. Ciao! Grazie. 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 Grazie.